Musica Bella raga, qui 10.000 e benvenuti in questo nuovo video Eeeh, non sono io a fare questo Comunque, siamo in una... Fermo, fermo, fermo Ok, fermo, non schiacciare di niente, non schiacciare di niente Fermo Ok Eeeh, fammi parlare Eeeh, stai fermo Fermo, gitto Ok Stai, fermo Fermo Ok Scusate Stiamo in una nuova serie che sarà una cosa pazza Pazza Eeeh, un, tipo, due persone in un computer Two persone in un computer Ok E sarà una survival con mio fratello che è scemo, è pazzo e non sa giocare Quindi, ora gli ho chiesto di parlare Eeeh, in italiano il più possibile Ok, e ci proverà Leva, taglia la legna ora Parla normale Parla normale Parla normale Dici ciao Ciao a tutti Non è, non è pazzo, non mi preoccupa Adesso l'ho 18 anni e fa lo scemo Comunque, lui sta usando il mouse e io la tastiera Dici ciao Ja, saluta, non vuoi scemo Ja Leva quel blocco là, l'ultimo blocco Ah, non c'è Non fare troppi movimenti strani perché lagga Dici ciao Ja, Silvia, non vuoi scemo Ja Fai ciao a tutti, normale Ciao a tutti Ja, normale Ciao a tutti Ja No, fangulo Comunque, vabbè Eh, nuova serie Cioè, questa sarà una serie Sarà tutta una survival così Ah, no, comunque, guardate, è un hardcore Cioè, quindi, durerà pochissimo Levo questa, qua Aspetta, aspetta, gira a sinistra Guarda a sinistra, a sinistra Il porco, il porco Il porco Parla non male, cazzo, mi fa incazzare Ciao, davide Lecce 2000, prego Ja Parla non male, per favore Guarda, guarda, c'è un altro porco là Guarda quanti porco Abbiamo tanto cibo, abbiamo tanto cibo Sto un po' laggando, mi scuso Finiscila Basta, basta Ce la fai Ce la fai, ucciderò un porco No Vabbè Aspetta, fermati, fermati Ok, prendi la legna Ok, mettila nella crafting Schiaccia dove è, a destra Nella legna a destra Schiaccia Ok, vai giù No, aspetta, questi qua, questi qua Fai, mettili tutti e quattro nella crafting Prendilo Prendi No, no, quello Ma che coglione Ma perché? Non li fare Non ci servono i bottori Ok, prendi la legna Non fa niente Prendi la legna Mettili tutti e quattro Prendili uno Tasto destro Tasto destro Oh Ok No, aspetta, mi può stare prima Ok Ok Metti Metti tasto destro Metti tasto destro Ecco Metti tasto destro di nuovo Ma destro Metti tasto destro Prendi due di legna Due di legna Legna In italiano parla, per favore Prendi quelli Qua Questi Ok Mettili due Verticale Ok Mettili a posto Hai la lentezza di un bra Tipo Che dorme Vai Due Tre Tre sopra Tre sopra Uno Due Ok Posalo Posalo E stiamo facendo un piccone Ok Ora Usciamo Usa il piccone Sulla terra Nola Nola Fai una scala Una scala Una scala Non così Non così Fermo Mettili a testo destro Ok Fai Ecco questo No quello No quello Questo qua Ecco Scava Scava di nuovo Vai avanti Ok Vai avanti Devo andare avanti Ok Una scala devi fare Non è difficile Dai Non fare così Non fare così Voleva sto pezzo di cosa Ok Aspetta Aspetta Ok Che fai Aspetta giù Vai giù Guarda giù Guarda giù No questo Questo qua Scava La pietra Eppure quel pezzo giù Ecco questo Ok No no Che fai No 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 Vai sopra Vai sopra No Va avanti Qua Scava Ok Scava pure questo E' un'impresa Scava quella a destra Ora ci facciamo un rifugio Ok Scava Ne tre qua Ok Due E tre Girati dietro Ok E qua la stessa cosa No Aspetta Aspetta Fermo Fermo Tre Fermo Fermo Fai quelli di sotto Ok Mo Gira a destra No 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 Stai andando diritto Destra Normale Vai Ok Fai quattro Da questa parte Due Due Tre Tre Quattro Fermati Vai qua Fai la stessa cosa Gira a sinistra Sinistra Ok Scava Basta Ok Due Tre Quattro Quattro Vai a sinistra Ora a sinistra Ma perché Ok ma vai a essere di sinistra Fino quando non trovi la letta Via Non ho la web camera perché mio fratello ha detto di no se non mi farei vedere Ma perché lui non va così quando siamo solo io e lui Ok Ora devi scavare tutto questo in mezzo Finito Sì ho finito Andiamo Muoviti Zitto Comunque Dissimi cosa ne pensate Zitto Devo dire Devo parlare Ok Zitto Comunque Comunque Ditemi cosa ne pensate di questa serie E Dite Mio fratello è scemo Ok Aspetta Fermati Saliamo E' notte E' notte E' notte Si va a parlare Zia Prendi Scava questa cosa Varrone Prima che muriamo Che è un hardcore Prendila Questa Subito Non mi far gridare No Tasto sinistro Muoviti Muoviti Ok Girati No 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 Non vuole niente Ok Metti Aspetta Ok No Cinque Mett Ma perché Cinque Metti Qua No Tasto destro No no Qua qua Tasto destro E là Ecco Tasto destro Fai questi due Prendi questi due stick Fai come se facessi Il piccolo di legno Ma con la pietra Muoviti però Tasto destro Devi fare Ok Ok Prendila Priedra Ok E scavo Quello che rimane E se la chiudiamola Non parla così E se la chiudiamola Parla normale La tua voce Fai sentire la tua voce E se la chiudiamola No la tua voce Questa è la mia voce No Dai Ma perché Non va come quello di Come si chiama Un teatro brutto là Che Che No La Mi sa scontato Ok Ok Vai a destra Prendi la Fai tasto destro Sulla crafting table Ok Mo Fai due Fai stick Prendi dieci Di legna Dieci I dieci Questi unisci Le alle dei tredici Ah vabbè Ah no Ok Fai qua Tasto sinistro Tasto sinistro Tasto No così Prendili tu Fai Tante volte il tasto sinistro Tante volte il tasto sinistro Sinistro No no Aspetta Fermo Prendi Schiaccia qua sulla legna Tante volte il tasto sinistro Tante volte Tante volte Ok L'ha presi Fermo 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 Prendi due stick Ok No Metti il tasto sinistro Rifallo Rifallo su tutti Rifallo Ma io stai scemo Mettilo Mettilo Ok Mettilo Mettilo qua Tutti No Non quello Gli stick Gli stick Gli bastoncini Eh Tasto sinistro Tasto sinistro Tasto sinistro Una volta Ok Tasto destro Eh E te li fa a metà E mettili sotto Ok Poi Prendi questo Questo Mettine uno qua Uno qua e uno qua Eh Uno a sinistra e uno sotto Ok Prendi quella Ok Mettilo dove vuoi Basta che Ok Mò Prendi Sempre quello Eh Mettilo Solo uno Sopra Ok La pala Poi Poi devi fare altri stick Che fai Fai altri stick Sta facendo tutto lui Eh I due stick I due stick Di nuovo Due sopra Uno sopra E uno sotto Prendi stick Basta 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 Eh Scusate Boh Ne devi mettere due sotto Solo sotto Uno e due Ok Mi mettere a posto Eh Devi mettere Eh Uno Due E là Due Vai Vai Mettili sopra Pure un altro Ecco Ma prendi la spada Ok E ne fatti due spade E ora devi mettere Ecco Vabbè Ok Esci E dobbiamo tagliare Un momento Che mi sto incrippando Con il filo Ok Dammi un momento Il mouse Dammi un momento Il mouse E noi facciamo Passare la notte E ci vediamo Andiamo uccidere i zombie Non ora Andiamo uccidere i zombie Andiamo uccidere i posti Non ora Conque come vedete Arnitocco Non farei grutti Nel mio video Non lo farei io Sì perché il mio video Fangolo Dopo il mondo Quando si fa il giorno Li uccidiamo Ok Facciamo passare la notte Comunque come potete vedere E' hardcore Quindi Cioè non è peaceful Quindi Dobbiamo fare tante cose Questa serie sarà Corta Perché Muoriamo subito Comunque Noi tagliamo E' Bella Ok Siamo ritornati Aspetta Schiaccia qua Schiaccia qua Schiaccia qua Ok Eh non vi blocco Con la pala con la pala con la pala Non lo aspetta Prendi la pala mettila qua Ok Prendi la pala Ok Levale il blocco Basta 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 E' pazzo Prendi la spada Ah Ma non mi ha fatto Ma aspetta e forse mi arriva Forse mi arriva Ah Eccolo eccolo Vedi Accendiamo Sì Andiamoci All'attacco Aspetta Fammi fare a me Levo un momento No No Levo un momento Levo un momento Moriamo Moriamo So che non vuoi So che vuoi far finire questa serie Ma fammi fare una cosa Moriamo Vai vai Spugnala 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 Uccidi Aspetta Fermo F3 F2 Sai cosa abbiamo fatto? Abbiamo salvato le coordinate Così non ci perdiamo Uccidi i porci Ok bravo Gira di dietro Aspetta Aspetta Stiamo facendo un male Gira a sinistra Lo riesce a uccidere Vabbè Vabbè Ma aspetta Leva questo Girati Guarda quanti ce ne sono Carne infinita A sinistra Quello è a sinistra Quello è sull'albero Ha distrutto Ha distrutto mezz'albero Ha 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 Ma perché? Ha 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 Gira di dietro Destra Dietro 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 Ci devo dimenticativi di fare una cosa Ce la fai o no Occidi Ok Dietro Ti bello e ti direi porci L'uomo L'uomo Ok Ok torniamo a casa Torniamo a casa Aspetta L'ho fatto Dove mettere a cuore della carne Vai sopra Guarda sopra Guarda sopra Ok E' scomparso Ecco Ho visto un altro Io Aspetta dove vai Dobbiamo prendere la carne Spaccare la terra Ok Va a sinistra Spaccare la Ok Vai a destra Vai a destra Tutto a destra Ok 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 Roserose Pette Ne vuoi prendere due euro Due fiori Sette 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 Come questo Così facciamo simmetri Sette Aspetta Aspetta Mettila Sette La Sette La Sette La dobbiamo fa ancora Vai Infatti la sulla visuale Ok Fermo fermo Piano Tira giù la visuale Ok Più su Un po' più giù Mettila normale Guarda che c'è la Sette Sette Raggiù Vai Gira di dietro Dietro Gira da destra Pia poco po' E' bloccato il gioco Gira di dietro Dietro Desta Dietro Sì lì Qua A destra Ok L'ho visto Va a destra Va a destra Va a destra A destra poco Hacca Haccia M Ehm Se lo abbiamo perso una caverna Aspetta aspetta Questa è casa nostra Wow Guarda giù Guarda giù Un borco Siamo in hardcore Gira di dietro No dietro Piano piano A destra Ok dobbiamo trovare casa Zitto A destra A destra E basta Porco Non abbiamo ucciso Ok ora troviamo casa E chiudiamo il video Sì Domani continuiamo Aspetta Va a destra Me la fai trovare a me No Va a destra Sinistra Ok diritto a diritto a destra Ah cosa Va a destra 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 Ha parlato normale Non manco Ok va a diritto Ok 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 quasi sono ristra Va a destra Ok Oh Ok Forca Che 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 Arif Oh Oh Ho All'esercizio On Siamo circondati da un'al una merda un po' di dietro oggi stiamo perdendo migliorino ne è finito di fare sti rumori fastidiosi si rompono il cazzo quelli che guardano il video con la freccia non lo uccidi l'ho ucciso prendi la spada ci metti tante e la distruggi peggio quello ci serve va a destra vai a destra spaccala no fermo vai basta basta prendi la spada tante dobbiamo trovare casa destra questo albero me lo ricordo dietro e da qua e da qua e da qua e da qua e sinistra comunque aspetta è qua forse e da qua ti ricordi qua destra si 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 fermo dammi qua un momento dammi qua dammi qua dammi qua dammi qua dammi qua cazzarino aspetta guarda a destra piano guarda giumbo po' 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 guarda a destra stiamo quasi morendo aspetta aspetta dammi un momento qua un momento solo un momento no no siamo votuti no perché non c'è la coordinata? sta facendo notte no ahahahahahah ok questa notte si depugge ah intatti nel pubblico ho 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 non così dice come cosa le parole ora mi raccontino a Park no barzellette ma perchè ciao mi chiamo Silvio dice pure il cognome bravo così tutto il mondo ci trova su facebook non ho mai un amico su facebook non ho mai un amico reale su facebook no la notte no 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 fermo 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 questo il primo disastro che è combinato ha perso caso ok facciamo così ok facciamoli in un altro bunker dobbiamo mangiare facciamo così così capito capito no non aspettino spezzavano un cart amuri amuri ok no cazzo faccio cazzo faccio cazzo faccio cazzo faccio ok 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 contento siamo vivi cazzo faccio cazzo faccio cazzo faccio cazzo faccio cazzo faccio cazzo faccio aspetta fermo 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 farlo con la mia voce cazzo faccio pericolo Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un mi piace e un commento. Ditemi cosa ne pensate di questa serie. Non fate caso al mio fratello che ho distrutto il microfono. Non fate... Cioè, ditemi cosa ne pensate di mio fratello. Se è coglione, se è scemo, se fa ridere, se non mi coglione. Quindi... Quindi... Iscrivetevi, lasciate un commento, mi piace... Lasciate un commento mi piace, complimenti. Lasciate un commento mi piace. Iscrivetevi al canale. E niente. Bella! Saluta. Ciao belle ragazze. E? Saluta. Ciao belle, ciao belle. E ciao ragazzi.